Amici di Musica Maestro, è una giornata veramente incredibile da questa mattina. Sono le 9.20, siamo in Via Po con la persona che ho fatto più disperare nelle ultime settimane. Però lo dico ufficialmente ai nostri amici che li voglio bene e ce la metterò tutta perché lei possa continuare questa sua avventura nel campo dei vini con la sua professionalità che è stata apprezzata da tanti nostri amici. Maria Luisa Alberico, due parole e poi andiamo da Parallelo 45. Grazie Daniele. La serata è splendida ed è un'occasione per ricordare un'iniziativa di Donna Sommelier. Mi fa particolarmente piacere. Nel corso di tutte queste splendide adunate che hanno visto Torino davvero la capitale delle celebrazioni, Donna Sommelier ha proposto un'iniziativa curiosa e particolare. Diventa aviatore, bersagliere, militare e Sommelier in 30 minuti. Lo facciamo nel nostro spazio di Piazza Castello ed è un'iniziativa bellissima con i vini di degustare l'Italia. Perciò invitiamo tutti gli amici, il 2 e il 3 luglio ancora, all'ultimo percorso per questa bellissima iniziativa di formazione e di cultura. Viva l'esercito! Guarda, cercherò di riprendere e dare una mano, lo stiamo facendo con Musica Maestro, con i nostri siti, adesso andiamo anche da Gianandrea e so che ci tenevi ad altre cose legate a... Dillo tanto! Il progetto Degustare l'Italia che tra l'altro con la vostra trasmissione diventerà davvero un'iniziativa nazionale perché i vini che abbiamo proposto in degustazione sono vini che provengono da tutte le regioni italiane proprio per festeggiare insieme in questo contesto di cultura e di vino e di buona tavola che cosa significa fare l'unità d'Italia attraverso il vino.